Uno spaccato di storia italiana attraverso tre generazioni. Lo spettacolo si chiama Faragiorno, scritto da Menduni e De Giorgio, in cui la prima generazione, quella dei padri, ha la voce di Renato Battiston, interpretato da Maurizio Di Vivo, un vecchio ex tipografo, orgoglio partigiano, che tuttavia si interroga sul falimento di quelli che sono stati i suoi ideali. La terza generazione, invece, è quella di Manuel, interpretato da Raffaele Fracchiola, un ragazzo violento di borgata, parlata a romanesca stretta, neonazista non convinto, con una vita sopra le righe. È un incontro tra i due, un patto non scritto, uno scambio reciproco. E infine la seconda generazione, quella di Aurora, interpretata da Gemma in gravallo e figlia di Battiston, che ha fatto parte delle BR che il padre, pensando di salvarla, ha denunciato alla polizia, scavando tra sé e lei un abisso che sembra incolmabile. Uno spettacolo intenso e al tempo stesso ricco di humor che coinvolge grandi e piccoli con la regia di Vito Rago, produzione e tutti scena, cultura e spettacolo.